un'altra cosa è che questa serenità aiuta a mantenere il focus e quindi la concentrazione in gara ovviamente la concentrazione è aiutata anche dal fatto che non ci siano elementi esterni che vi possono disturbare ad esempio è consigliabile non essere in discord o in canali vocali dove tutti parlano oppure anche l'ambiente intorno a voi che ne so evitare di avere gente che vi distrae televisione accese eccetera per rimanere focus questo in più vi dà la possibilità a questa concentrazione di poter avere la capacità di resettare immediatamente il cervello in caso di problematica perché questa è proprio una qualità sulla quale bisognerebbe lavorare succede in gara ragazzi perché le gare non sono perfette di subire delle ingiustizie una sportellata vi fanno uscire fuori eccetera quindi avere la capacità di resettare rimettersi subito nel mood di riprendere il ritmo è complicato però se si ha questa capacità si possono ridurre i danni e ci si può leccare più rapidamente le ferite e cercare di fare una rimonta piuttosto che perdere tempo a inveire contro l'avversario che poi alla fine ragazzi che a cosa serve a nulla soprattutto in ottica campionate punteggi mi raccomando ragazzi perché preferisco rimettermi subito in careggiata invece di arrivare decimo arrivo dodicesimo è meglio che arrivare diciottesimo è questo che bisogna sul quale bisogna puntare ovviamente più facile a dirsi che a farsi però è così che funziona un'altra cosa che di fondamentale importanza per quanto riguarda la strategia di gara ragazzi è quella di porsi degli obiettivi onesti in base alle proprie capacità cioè se il primo fa 1.18 io faccio 1.20 ragazzi non mi posso porre l'obiettivo di arrivare primo è più che altro una speranza nel caso in cui degli elementi come l'allineamento delle stelle con il sole marte giove faccia sì che davanti si distruggano io passo ma in tempi normale ragazzi cosa succede succede che arrivo dietro ok quindi qual è la mia speranza cioè quindi qual è il mio obiettivo bene il mio primo avversario a chi mi sta davanti magari perché siamo distanziati da 1 2 decimi 3 decimi allora quelli sono degli obiettivi onesti sulla quale io posso andare ad aggrapparmi che possa andare a lottare quindi un obiettivo veritiero e onesto per me è quello di andare a lettare con il mio primo primo avversario che è più o meno al mio livello inoltre ragazzi c'è anche da capire che nel sim racing come in generale in tutte le attività ci sono dei malgrado gli sforzi che facciamo ci sono dei limiti fisici del quale che è difficile non dico che è possibile è difficile andare a sormontare io sono uno incito sempre alle persone di uscire dalla loro comfort zone cercare di superare i propri limiti soprattutto quando vedo che c'è margine ma tu quando sei già arrivato al tuo limite massimo e lo sai andare oltre a saltare l'ostacolo a volte il costo tra lo sforzo che si deve fare per superare quel limite è veramente quello che si riesce a ottenere è talmente piccolo che forse non ne vale la pena dico forze mi viene in mente la storia dei 400 chilometri orari di bugatti che hanno fatto il rapporto tra lo sforzo da fare tra 400 chilometri orari e 405 chilometri orari mi pare che era quello che è stato più importante che è passare da 0 a 400 perché perché da 0 a 300 350 motore un po più potenti si cambia struttura dello chassis aerodinamica eccetera e per guadagnare oltre quelle velocità quindi come dicevo da 400 405 ad esempio motori da 1000 pasta cavalli chassis rinforzati aerodinamica super più i costi eccetera quindi è quello è vale veramente la pena c'è un decimo che possa andare a guadagnare con lo sforzo di vale la pena qual è il rischio anche soprattutto in gara possiamo pretendere in gara di andare a prendere i due secondi che ci separano dal primo no quindi ragazzi bisogna sapersi porre degli obiettivi che siano onesti nei confronti attendibili rispetto a quelle che sono le nostre capacità poi come si dice l'occasione renderemo ladro come ho detto se marte giove il sole si si allineano e si ammazzano quelli davanti ovviamente me la vado a prendere la prima posizione un'altra cosa che è importante capire sull'importanza della consistenza ora che ci sono e ve lo faccio questo esempio è che ad esempio se il vostro avversario davanti gira due decimi più veloci di voi a ogni giro ma che ha una gestione del ritmo di gara diverso magari un po più irruento è un po più teso eccetera può succedere questa cosa qua dopo 20 giri che vi lascia due decimi costanti a ogni giro vi ha lasciato 4 secondi ma il 21esimo giro per stacchezza per quello che sfiga sfortuna consumo troppo importante delle gomme perde il controllo la sbinna e perde 5 secondi matematicamente cosa succede semplice siamo davanti a un secondo quindi per recuperare dovrebbe fare lo sforzo di fare 5 giri minimo per recuperare quel secondo oltretutto bisogna considerare il consumo extra di gomme non previsto da quell'uscita e probabilmente danno alla carrozzeria che viene a inficiare probabilmente sulle performance dell'auto il suo nervosismo eccetera eccetera per farvi capire che cosa può comportare il fatto di uscire io preferisco fare stare mezzo secondo sotto regalare 5 secondi in tutta la mia gara non fare neanche un errore e arrivare sano e salvo piuttosto che fare un errore che può compromettere la mia gara un altro consiglio che vi posso dare è di valutare sempre il rapporto tra il rischio che prendo per ottenere una posizione e questo è relativo a il momento in cui ci troviamo vi spiego siamo a metà campionato sono nono l'ottavo e a un secondo e mezzo mancano 5 6 giri so che sono due decimi più veloci di lui ma sono tirato un po sulla mia guida dietro di me c'ho 15 secondi di vantaggio vale la pena a metà campionato andare a recuperare un punto si mi direte è importante perché si vincono i campionati anche per un punto ok ma bisogna tenere in considerazione che se io mi giro quanti punti perderò c'è questo ragionamento da fare quindi è sempre importante calcolare il rapporto tra il rischio e il beneficio che si ottiene se mi dite fabbri però sono cinque punti allora magari vado a prendermi quindi dipende anche dalla classifica eccetera invece se dovesse essere l'ultima gara di campionato e sto lottando per la terza posizione e quel se arrivo terzo vinco il campionato mi giovo tutto vado arrivo con le tele non me ne frega niente ok quindi è sempre in ottica di longevità del del campionato e in termini di classifica tutto quello che ho detto sulle classifiche sulla su questo tipo di strategia può essere ovviamente smentito perché come dicevo ogni punto conta nel campionato però è anche vero che strategicamente paga tanto anche il giocare safe proprio per una questione non solo di economia di punti perché se evito di uscire risparmio punti perché me li porta a casa a livello di risorse psicofisiche come dicevo e soprattutto anche a livello di stress perché a volte quando guidiamo troppo tesi dimentichiamo anche di respirare ragazzi e questi sono fatti veri quindi ragazzi se in tutto quello che ho detto in questa strategia di gara ci fossero argomenti che vi interessano che volete che approfondiamo che ne so la strategia box come migliorare ad esempio la consistenza ho parlato poco di quello che è lo status mentale il focus che bisogna mantenere il mood che bisognerebbe cercare di raggiungere per avere quella costanza quella concentrazione non esitate a lasciare un commento ragazzi possiamo approfondire o anche suggerire altri argomenti però prima di concludere vi vorrei ricordare una cosa molto importante ricordiamoci il motivo per il quale corriamo ognuno di noi ha un motivo d'accordo però penso che è una cosa comune mi posso permettere di dire è che si corre nel sim racing per un'esperienza gratificante e soprattutto divertente quindi rimaniamo focus su questa cosa qua che è molto importante ragazzi detto ciò ragazzi prima di lasciarvi vorrei ricordarvi che è partito da è partito il campionato adrenaline rush 2024 su i racing l'appuntamento è ogni giovedì fino alla fine di questo mese ci tengo veramente a segnalarvi questa cosa qua e di venire a vedere le live il giovedì sera alle 21 e 15 sul nostro canale perché stiamo spingendo molto sulla sensibilizzazione della campagna race to donate più veloci della malattia avremo come ospite alessandro marchetti testimonial di questo di questa iniziativa per sensibilizzare le persone e per passare la informazione corretta di come avviene la donazione del mito all'osseo che oggi si fa con una semplice donazioni di sangue quindi vi invito a partecipare è un momento bellissimo gioioso con questa testimonianza da parte della comunità di sim drivers e tutti gli amici di questo race to donate e in più vi ricordo se siete interessati su r factor 2 parte la btcc season 2 mission impossible che inizierà il 10 febbraio le iscrizioni sono ancora aperte avete tutto il tempo necessario per iscrivervi ci sarà una prequalifica dove passeranno 24 piloti siamo già a 48 iscritti ragazzi dei sto registrando il 12 gennaio quindi vi invito ad iscrivervi trovate tutte le info nel nostro discord quindi veniteci a raggiungere detto ciò ragazzi vi ringrazio per avermi seguito quindi pollice in su se questo video vi è piaciuto lasciate un commento iscrivetevi al canale da fabbris è tutto un abbraccio ciao ciao